Cenni storici sull'acustica, sull'anatomia e la fisiologia dell'orecchio, problemi dell'udito. Studiosi del suono dell'orecchio e dell'udito. Bartolomeo Eustacchio. Anatomia dell'orecchio. Andrea Vesaglio. Gli ossicini dell'udito. Filippo Ingrassia. Robert Flood. Rappresentazione simbolica dell'udito. L'armonia dell'universo. Marine Marcene. Frontespizio dell'armonia universelle. Pierre Gassende. Athanasius Kischer. Conduzione del suono. Riflessione del suono. Tubo per rinforzare i suoni. Tubo acustico. Herman Von Helmholt. Frequenza del suono. Risuonatori. Risuonatori. John Tyndall. Figure di Lissangiu. Apparecchio di Tyndall. Registrazione delle vibrazioni di un diapason. Giulio Cassereo. Giulio Cassereo. Frontespizio di un libro del Cassereo. Tavola comparativa degli ossicini dell'udito. Claudè Perrolt. Domenico Cotugno. Medaglia e illustrazione del Cotugno. Antonio Scarpa. Ricerche dello Scarpa. Samuel Thomas Zomeringhe. Ricerche del Zomeringhe. Magnus Gustav Rezzius. Ricerche di Rezzius. Alfonso Giacomo Giuseppe Corti. Ricerche del Corti. Tomba di Adam Polzer. Ricerche del Polzer. Bartolomeo Panizza. Teodoro Birroth. Carl Stump. Breve storia dell'orecchio e dell'udito.